Basta, basta. Questa è buona, non fa fine. Che sai, dottore, Duno? Sì, perché? Non ha detto che sta male, ha detto se vada lui. Bravo, e tu sei venuto a chiamarmi, bravo, metto. Ma poi io non ci volevo venire per niente. E perché? Perché volevo andare a Turo Antonio, ma la nonna ha detto no. Perché tua nonna ha ragione, andiamo. Quanto è? Il completo, 1,50. Premesso, premesso. Beverly, sì, Beverly. Quando la facciamo questa benedetta crescita? Lo so, figlio mio, speriamo domenica, ma la tengo tra chiesa da servire. Scrivete a Roma, fatemi servire, a Roma. Signor Sindaco, buone notizie. La barriera si è inclinata, non vi ammalanchimi. A auguri. Grazie, vieni. Però, si dà da fare, eh? Anche troppo. Che ore sono? Quattro giorno e tre e quattro. Dov'essere arrivata la domenica del Corriere.